Un'intera RSA contagiata, ci troviamo nel comune di Civitella in Valdichiana. La struttura è quella che vedete alle mie spalle. Sospesa anche l'attività del centro di urno per anziani che si trova qui accanto. Nella residenza per anziani Beccattini che si trova nella frazione di Pieve al Toppo e che ospita 15 anziani tra i 75 e i 95 anni, sono risultati tutti positivi. L'ASL sta organizzando il servizio e in questo momento è stato deciso di trattenerli nella loro struttura essendo tutti positivi in modo da agevolare i lavori e tutelarli maggiormente. Già da ieri è attivo il servizio USCA e l'ASL sta completando l'organizzazione del lavoro nella massima tutela dei nostri ospiti. Alcuni giorni fa purtroppo sette operatori sono positivi e quindi questo spiega anche perché la positività degli ospiti. Il centro di urno che è accanto all'RSA rimane aperto con prescrizioni particolari oppure no? No, in questo momento l'attività del centro di urno è purtroppo sospesa anche perché al primo piano avevamo allestito tre camere per isolamenti emergenziali per i nostri ospiti dell'RSA quindi problemi di protocollo al momento è chiuso però stiamo lavorando per cercare di riaprirlo anche questo servizio davvero importante per le famiglie nel massimo rispetto della sicurezza tenendo conto che si parla comunque di soggetti molto fragili quindi occorre davvero molta attenzione.